Non sarò certo io a spiegare cos'è il Natale. Un po' perché non lo amo e un po' perché ho veramente poco da insegnare a qualcuno. Non mi piacciono le feste e ancora meno mi piacciono le celebrazioni. E quindi? E quindi basta con tutte le pippe mentali che ti fanno sentire ancora più solo quando torni a casa. Dopo un anno come questo non siamo più quelli di un anno fa. E ricomincio convinto di non avere più bisogno del rum che vizia, ma soltanto dell'acqua che serve. E stasera facciamo l'altro. Quanti anni e quante cazzate mi sono servite per capire che puoi comprarti tutto quello che vuoi. Ma ciò che davvero ti resta sono soltanto le esperienze. E nessuno può pignorarti. Dopo dieci traslochi in sei anni e una valigia sempre piena perché scappare era meglio che affrontare l'eco di una casa vuota, ho capito che la felicità non è un posto in cui arrivare, ma una casa in cui tornare. E allora perché non iniziare proprio dal Natale, che è la festa del fallimento, il giorno in cui ci convinciamo tutti di essere più buoni, per rimpiangere soltanto i giorni in cui invece siamo stronzi del Natale. E ho il cuore in gola ed è quasi Natale, ma con tutta quella gente resto qua. Merry Christmas 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 Grazie.